Salve, Eo, Pario, Eo, Recte, Pario, Recte, Eo, Recte, Pario, Recte, Eo, Pario, Eo. Cugnemus! Come state? Cacciatore! Tibi Serbio, Recte, Recte. Buon Dio. Bene. Salve, Eo, Pario, Recte. Impeo, Pario, Recte. Salve, Eo, Pario, Eo, Pario, Eo, Pario, Eo. Recte. Eo. Pareo. Recte. Pareo. Ad arma! Recte. Salve. Ad arma! O segui. Come sta? Prego. Bene. Prego. Tibi Serbio. Eo. Buon dì. Bene. Sì. Bene. Cacciatore. Impera. Recte. Pareo. Sì. Tagliaboschi. Come state? Capomastro. Capomastro. Salve. Avete del... L'ho costruito. Presto sia concluso. O segui. Sì. Cacciatore. Buon dì. Tagliaboschi. Bene. Sì? Non mi si faccia fretta. O segui. Prego. Cacciatore. Cacciatore. Arte. Sì. Prego. O segui. Cacciatore. Avete del tempo. Come state? Bene. Sì. Prego. Cacciatore. Tibi Serbio. Recte. Eo. Recte. Recte. Sì. Gli italiani. Presto fia concluso. Impera. Eo. Recte. Eo. Recte. Salve. Pario. Reo. Recte. Eo. Recte. Pario. Tibi Serbio. Eo. Pario. Recte. Buon dì. Tagliaboschi. Tagliaboschi. Impera. Qual è l'edificio? Gli italiani. Presto fia concluso. Tibi Serbio. Salve. Come state? Sì. Prego. Bene. Sì. Bene. Prego. Tibi Serbio. Tibi Serbio. Buon dì. Cacciatore. Buon dì. Bene. Sì. Prego. Osequi. Bene. Prego. Bene. Sì. Prego. Cacciatore. Bene. Come state? Bene. Prego. Sì. Cacciatore. Avete del tempo. Non mi si faccia friggere. Podesca. E arte. Segui. Prego. Come state? Bene. Buon dì. Sì. Osequi. Qual è l'edificio? Sì. Gli italiani. Presto fia concluso. Impera. Recte. Tibi Serbio. Ad pugna! Sì. Impera. Tibi Serbio. Pario. Recte. Buon dì. Come sta? Sì. Cacciatore. Buon dì. Prego. Cacciatore. Impeo. Pario. Recteo. Pario. Recteo. Avete del tempo? Non mi si fa presto. Gli italiani migliori fanno. Prego. Come state? Minatore. Buon dì. Minatore. Osequi. Come sta? Cacciatore. Salve. Eo. Pario. Recte. Eo. Pario. Eo. Tibi Serbio. Recte. Eo. Recte. Pario. Eo. Sì. Qual è l'edificio? Sì? Presto fi non mi si faccia fretta. Codesta è arte. Impeo. Pario. Salve. Recte. Recte. Pario. Impera. Eo. Recte. Eo. Salve. Recte. T.B. Servio Iberampareo Recte Iberampareo Qual è l'edipresto sia concluso? Oh, frego! Cacciatore! Come state? Ostben, cacciatore! T.B. Servio Recte Recte Eo Salve Recte Eo T.B. Servio Recte Recte Yes Ha 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 Impera Eo Pareo Recte Salve, Tibis, Pareo, Recte, Eo, Recte, come state? Impera Recte! Buon D, Cacciatore! T, Meo, Recte Sì? Ne siete sì? Non mi si faccia fretta. Odesta? Lo costruire? Sì. Gli italiani migliori il fanno. Come state, capomastro? Qual è l'ed... Lo costruiremo qui? Presto fia concluso. Come sta, cacciatore? Yes. Yes. Avete del tempo? Gli italiani migliori il fanno. O segui. Sì. Prego. Buon D! Assegno. Impera. Eo. Qual è l'edificio? Presto fia conclusa. Salve, pareo. Recte. Non mi si faccia fretta. Odesta è arte. 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 Esatto. E' L'edificio. E' Esatto. Arte. Assegno. E' E' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non mi si faccia fretta. La podesta è arte. Sì? Sì, lo costruiremo qui? Sì? Avete del tempo? Presto sia concluso. Sì? 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 Come state? Prego. Sì, prego. Capomastro. Qual è l'edificio? Sì? Sì? Qual è l'edificio? Non mi si faccia fretta. Codesta è arte. Sì? Presto sia concluso. Avete del tempo? Ne siete sicuro? Non mi si faccia fretta. Codesta è arte. Sì? Sì. Gli italiani migliori il fanno. Buondì. Cacciatore. Cacciatore. Ho set tagliaboschi. Cacciatore. Sì? Come state? Bene. Cacciatore. Cacciatore. Noi? Cacciatore! Tutto. Cacciatore. Cacciatore! Noi! Est Над camina? === Sì! Prego! Per 8! Giavole, per standard, Giavole! Avete del tempo? Resto FIACO? Gli italiani è l'edificio, presto fai! Non mi si faccia fretta! Presto FIACO? Non mi si faccia fretta! Gli italiani non mi si faccia fretta! Codesta è arte! Qual è l'edificio? Gli italiani migliori il fanno! Buondì! Come state? Prego, minatore! Sì! 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 Uf, drag. Uf, drag. Uf, drag. Condi. Ossegui. Condi. Prego. Capomastro. Avete del... Lo costruiremo... Ne siete sicuro? Presto sia concluso. Gli italiani... Presto sia concluso. Qual è l'edificio? Lo costruiremo qui? Non mi si faccia fretta. Modesta è arte! Mio quel cos'è? Pagli. 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 No, 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 no. Sì, tagliaboschi. O sé, tagliaboschi. Come sta? Bene. Sì, bene. Prego. Capomastro. O sé qui. Qual è l'edificio? Gli italiani presto fia concludo. Sì? Gli italiani migliori il fanno. Gli italiani migliori il fanno. Non dì. Tagliaboschi. O sé qui. Bene. Capomastro. Avete del tempo? Sì. Non mi si fa fanno. Gli italiani migliori il fanno. Codesta è arco. Avete del tempo? Sì. 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 E' un'altra città niente Sì. buon dì capomastro eeeh buon dì o seguo 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 come state? bene capomastro 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 o segui prego si capomastro come state? buon dì prego capomastro capomastro buon dì o segui come state? capomastro come state? capomastro come state? capomastro pro capomastro Sì, sì, gli italiani migliori li fanno Pronti, lo farò, stop, sì, sto per farlo, sì Comando, lo farò, sto per farlo, lo farò, sì Avete del tempo? Lo costruiremo qui, ne siete sicuro? Sì, lo costruiremo qui? Come state? Beh, minatore Sì Taglia boschi Sì, sto per farlo Amok, andianne Come state? Capomastro Alla prossima Alla prossima buon dito, si capomastro qual è l'edificio? ne siete sì? tagliaboschi ossegui quindi bene capomastro ossegui capomastro 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 pronto come sta capomastro? capomastro avete del tempo? tagliaboschi buon dito, capomastro buon dito, capomastro 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 voi capomastro già non importunare la mia leggiadra fanciulla Sire, comandi? Presto ilf, alla marcia! Hello, I am about the elf! Alla marcia! Segue! Bene! Capomastro! Sire, presto ilf! Tu lo farò! Come state? Buon dì! Tagliaboschi! Anzi, prego! Tagliaboschi! 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 Capomastro. Bene. Prego. Capomastro. Come state? Prego. Capomastro. Impera. Peo. Pareo. Recte. Come state? Capomastro. 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 Pronto. Alla marcia. Ossequi. Capomastro. 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 Sireno. Presto lo farò. No. No. Questo è il mio forte. Buon D. Contadino. Salve. Eo. Pareo. Buon D. Contadino. 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 Capomastro. Capomastro. Come state? Buon D. Taglia Boschi. 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 Sì. Capo Massimo. Già, non in... Sottoporto Massimo. Rekpareopeo. Rekpeo. Sire. Alla ma... Alla marcia! Questo è il par... Sire. 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 Ilf. Alla marcia! C'è non è forte. Andi an! Forza! 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 Rekpeo. 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 Ilf. 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 Grazie a tutti! E' un asfalto! Alla pugna! E' un asfalto! Tutti li atterrerò! Andiate! Per assoluti li atterrerò alla Pugna! Per assoluti! Ah, ma questa macchina! Per assoluti! Si! Si! Andere! Per assoluti! Editha mara! Non si! C'est vrai, hein? Non si! Non si! Non si! Non si! Andere! Si! Je suis blessé! Je ne peux pas bouger! Restez à le centre! Non si! È potecasmo oublie! Per assoluti! Per assoluti! Non si! Per assoluti lezat! Si! 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 Buon attacco! Per assoluti! Abbiamo la sua! Per assoluti! Per assoluti! E' subito. Sì, c'è un po' di più. Alla scena! Adolfo! I scimitari! I scimitari! I scimitari! I scimitari! I scimitari! Go away! I scimitari! 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 Pronto! Il parola! Resto lo parola! Il per la pallapuglia! All'assalto! All'assalto! All'assalto!